Buon pomeriggio da Marcella Iannone di InfoWeb, l'editore di InfoBuild e InfoBuild Energia, i portali che da oltre 20 anni si occupano di edilizia e di architettura e di fonti rinnovabili e che ogni giorno sono consultati da più di 200 mila professionisti del settore. Vi do il benvenuto a quello che è l'ultimo webinar della giornata del Digital Forum Aest. Siamo partiti ieri per tre giornate ricche di contenuti, di webinar interessanti e di convegni che affrontano appunto le tematiche di maggior interesse nell'ambito del software. Per questo ultimo webinar abbiamo come azienda protagonista ed il clima. Vi presento subito il dottor Stefano Silveira e Donatella Vicario che ci intatterranno per i prossimi 60 minuti. Buonasera, benvenuti. Buonasera, grazie Marcella e benvenuti a tutti. Approfitto per chiederti Stefano di che cosa ci parlerai durante questo webinar, darci una piccola intro? Certamente, parleremo di ponti termici, argomento che è molto attuale nel calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici in quanto negli interventi che riguardano la coibentazione dell'involucro e ci consentono poi di accedere alle incentivazioni come il cobonus e il cobonus 110%, abbiamo visto che è necessario calcolarli e quindi vedremo innanzitutto di fare un inquadramento teorico su perché dobbiamo calcolarli e come possono incidere in quelle che sono le verifiche di legge da dover verificare quando andiamo ad efficientare l'involucro dell'edificio e per accedere anche alle varie detrazioni fiscali. Quindi un focus proprio incentrato al discorso ponti termici. Ottimo, vediamo l'ora di ascoltarvi e do qualche informazione tecnica ai partecipanti. Come sapete il webinar durerà 60 minuti, quindi un'ora, durante la quale potrete anche formulare le vostre domande. C'è un'apposita sezione domande chat dove potete scrivere tutti i vostri quesiti diretti al dottor Silveira e durante il webinar se ci sono problemi di natura tecnica, audio, video e connessione potete sempre scrivere le vostre problematiche in chat e io, Isabella Salamida, vi daremo tutta l'assistenza. Ricordo come ultima cosa che il webinar non rilascia a crediti formativi, diversamente dai conveni del mattino che invece rilasciano due crediti formativi per architetti, ingegneri e pericoli. Quindi i materiali dei webinar saranno disponibili sulla pagina ufficiale dell'evento a brevissimo, così come le registrazioni. Bene, non mi resta altro quindi che lasciare la parola a Donatella che introdurrà il webinar e vi auguro a tutti una buona visione. Allora grazie Marcella, di nuovo buonasera a tutti. Io sono Donatella Vicario, responsabile commerciale di Edilclima. In questa giornata di Digital Forum Wise, come abbiamo sentito, proporremo nuovamente un argomento legato al super bonus, appunto dal titolo Ponti Termici Super Bonus Requisiti di Legge e avremo il piacere di ascoltare, come avete visto, il dottor Silvera che è molto molto preparato in materia. Prima di passare la parola a lui approfittavo per segnalarvi le promozioni che abbiamo creato ad hoc per questo forum e che termineranno domani sera. Allora proponiamo sconti su nuovi moduli fino al 20% e sconti sugli aggiornamenti fino al 15%, proprio come vedete nella slide che è adesso in condivisione. Ricordo in particolare a chi non è ancora cliente che lo staff commerciale di Edilclima è a vostra completa disposizione per qualunque chiarimento e per proporvi la giusta soluzione studiata in base alle vostre specifiche esigenze. Ultima informazione di servizio, proprio questa settimana abbiamo pubblicato un nuovo listino con tre grandi novità per la linea termotecnica. Sui prodotti C700 calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e C709 ponti termici e C720 diagnosi energetica e interventi migliorativi. Proprio su questi prodotti giovedì 18 novembre faremo una grande presentazione live nel quale illustreremo tutte le nuove funzionalità implementate e naturalmente siete tutti invitati a partecipare. Quindi a questo punto chiedo una cortesia a Marcella se possiamo condividere con i partecipanti di questo pomeriggio proprio il link diretto alla pagina di registrazione all'evento. È proprio in chat, adesso lo troverete tutti in chat. Bene, allora invito tutti davvero a partecipare perché così avrete modo di vedere tutte le potenzialità di queste novità che abbiamo inserito nel software e a questo punto direi di lasciare la parola al collega con la parte tecnica. Grazie mille, un saluto a tutti, buona continuazione. Grazie Donatella, grazie mille. Allora, adesso vado a mostrare il mio schermo con la presentazione di oggi e appunto dedicata al discorso ponti termici. Ponti termici, super bonus e requisiti di legge, quindi parleremo del tema punti termici finalizzato poi a quelli che sono i calcoli necessari ad eseguire le verifiche dei requisiti minimi energetici e in generale all'accesso alle pratiche di detrazione fiscale del super ecobonus. Prima di andare però a vedere nello specifico come calcolare utilizzare i punti termici per i file pre-intervento e post-intervento è doveroso fare un pochettino di teoria sul discorso ponti termici perché solo conoscendo un attimino la teoria si può capire perché è necessario calcolarli. Quindi partiamo un attimino da lontano per introdurre il discorso dei punti termici, quindi in questa prima fase della presentazione le mie spiegazioni saranno tutte finalizzate a capire il punto. Partiamo da quello che è lo scopo principale di un software di calcolo delle prestazioni energetiche, ovvero il calcolo delle dispersioni. Il software di calcolo che esegue le simulazioni energetiche secondo le norme UNITS 11300 esegue come prima cosa il calcolo delle dispersioni delle strutture. Questo calcolo delle dispersioni delle strutture è poi quello che è necessario compiere per effettuare il calcolo dell'AVE, delle requisiti energetici e anche delle detrazione fiscali, quindi si passa sempre da questo calcolo delle dispersioni. Vediamo come si svolge un calcolo delle dispersioni, o meglio vediamo come i punti termici sono di fatto necessari per eseguire un calcolo corretto delle dispersioni. Poniamoci in una casistica delle più semplici possibili, una pianta quadrata, come vedete nella slide che vi sto mostrando. Pianta quadrata, ignoriamo la presenza di un pavimento, ignoriamo la presenza di un soffitto, ignoriamo la presenza di finestre. Sono semplicemente 4 muri da 10 metri l'uno. Attenzione, 10 metri l'uno però rilevati internamente. E quando io vado a fare un rilievo delle superfici disperdenti con finalità calcolo delle dispersioni, io potrei decidere di fare un rilievo interno oppure un rilievo esterno. Ed entrambe sono ammesse dalle attuali normatività. Se faccio un rilievo interno vado a determinare una superficie disperdente di 10 metri per 4 latri per 2,7 metri altezza netta. Qua ignoriamo per semplicità pavimenti. La superficie totale sono sostanzialmente 108 metri quadri. Se invece facciamo rilievo esterno dobbiamo conteggiare in più lo spessore delle murature e quindi abbiamo un valore di superficie maggiore, 114,48 metri quadri. Quindi, a seconda che io faccio un rilievo interno o esterno, le superfici cambiano, come giusto che sia. Passiamo a fare un rapido calcolo delle dispersioni. Non andiamo neanche a calcolare i Watt. Fermiamoci ai Watt to Kelvin. Quindi io parto da un valore di trasmittanza, ad esempio qua, trasmittanza della parete 0,511 Watt per quadro Kelvin e vado a multiplicare la trasmittanza per la superficie. Ottengo l'HT coefficiente di dispersione, i Watt su Kelvin. Logicamente, trasmittanza della struttura, se che faccio un rilievo interno o esterno rimane la stessa, cambia la superficie. Se faccio un rilievo esterno ottengo un HT più alto rispetto a un rilievo interno. Quindi, il rilievo esterno, in questo caso, avrò 58,5 Watt su Kelvin. Se faccio un rilievo interno avrò 55,2 Watt su Kelvin. A questo punto la domanda è lecita. Quale dei due rilievi è più corretto, fra quello esterno e quello interno? Al momento, nessuno dei due, perché non ho considerato i ponti termici. Il rilievo esterno, determinando un HT più alto, va a sovrastimare le dispersioni, mentre quello interno li sottostima. Ora, se dovessimo fare solo un calcolo di potenza di picco, il rilievo esterno potrebbe anche andare bene, saremmo più corretti. Ma noi dobbiamo fare un calcolo di energia. Quindi, quando facciamo l'APE, le verifiche di legge superbonus, calcoliamo l'energia. E nel calcolare l'energia dobbiamo essere precisi. L'essere precisi non va a bracetto con l'essere troppo cautelativi o troppo poco cautelativi, quindi come il sovrastimare o il sottostimare le dispersioni. Dicevo che quindi non ho considerato i punti termici. I punti termici li possiamo vedere quindi in prima istanza come quel componente dell'involucro che ci consente di effettuare correttamente il calcolo delle dispersioni. Quindi, vi ho detto all'inizio che il calcolo di dispersioni è il primo calcolo che deve svolgere un software di calcolo delle prestazioni energetiche, che serve per l'APE, le verifiche di legge e le pratiche superbonus, e di conseguenza questi punti termici sono necessari per effettuare correttamente il calcolo delle dispersioni. Come si calcolano i punti termici? I punti termici possono essere solo calcolati tramite software di calcolo agli elementi finiti. Questi sono gli unici strumenti che sono in grado di calcolare queste dispersioni termiche aggiuntive dovute, vedremo dopo, alla geometria o a discontinuità all'interno. Punti termici, calcolate gli elementi finiti, ma siccome questi punti termici sono anche piuttosto ricorrenti nell'involucro edilizzi del nostro parco edilizio, questi punti termici possono essere anche tabellati dando origine agli abacchi dei punti termici. Sapete bene che nel clima abbiamo due soluzioni per il calcolo dei punti termici. L'ABACO, C709, che è una raccolta di simulazioni di calcolo degli elementi finiti, o la simulazione di calcolo vera e propria degli elementi finiti fatta tramite interfaccia con Mold Simulator d'Italia, che vi consente appunto di eseguire questa tipologia di simulazione. A livello di punti termici, che tipologia possiamo avere? Beh, possiamo avere i punti termici di natura geometrica, che si verificano quando la superficie misurata esternamente differisce da quella misurata in termini, è proprio come nel caso che abbiamo introdotto all'inizio. I punti termici di questo tipo sono ad esempio l'angolo fra pareti, parete pavimento disperdente e l'incrocio parete soffitto disperdente o parete in copertura. Tutte quelle volte in cui la superficie misurata internamente differisce da quella misurata esternamente e da l'uomo un ponte termico di natura geometrica. Altre tipologie di ponte termico sono quelle dovute alla discontinuità materica. Qui non c'è un discorso di differenza di superficie misurate internamente o esternamente, ma c'è un discorso di cambio di conduttività. Più semplicemente vengono individuati laddove c'è un'interruzione dell'isolante, ma più in generale appunto laddove c'è un cambio drastico di conduttività. Qui nell'immagine vedete un pilastro su pacciata, è un ponte termico dovuto a discontinuità materica, perché il pilastro qui va ad interrompere l'isolante, quindi è un ponte termico che non è in alcun modo corretto, quindi è una situazione pessima dal punto di vista involucro. Ma immaginiamoci di non aver avuto il materiale isolante all'esterno, quindi di aver avuto semplicemente un pilastro tra due pareti in laterizio, il cambio di conduttività dall'aterizio al cemento del pilastro fa sì che si venga a generare un ponte termico dovuto a discontinuità. Poi abbiamo i punti termici dovuti dalla somma dei due fenomeni, quindi il ponte termico causato sia dalla geometria che dalla discontinuità materica. Ad esempio qua abbiamo un incrocio fra una parete esterna e un pavimento sul non climatizzato, questo è un ponte termico che è dovuto sia a causa di natura geometrica che discontinuità materica, perché vedete che abbiamo una trave in cemento, che quindi ha un lambda diverso dal mattone in laterizio della parete e dalla soletta in laterizio. Poi abbiamo punti termici speciali che sono anche piuttosto ostici da risolvere, abbastanza particolari da calcolare, come quelli di posa del serramento. Qui non è che c'è tanto un discorso di superficie interna, superficie interna, discontinuità materica. Qui c'è proprio il discorso che installando il serramento all'interno dello spessore della nostra parete esterna, vediamo come delle immagini sottostante, quello dell'andamento del flusso termico, il flusso termico in uscita vediamo che gira attorno al telaio, causando dei punti freddi sulla parte di parete posta in prossimità del telaio. Qui se non andiamo a correggere quella che è la parte successiva, la parte posta dopo il telaio, si viene a generare un punto termico che può anche causare problemi di rischio. Successivamente è importante conoscere le cause che determinano i punti termici perché poi quando andate a fare un sopralluogo, in funzione dell'edificio che state analizzando, dovete già farvi un'idea di quelli che saranno i nodi di ponte termico che dovrete poi calcolare e inserire nel calcolo energetico. Vedremo dopo con un esempio più pratico come ci si può approcciare appunto a questo modo di rilevare l'edificio, quindi non solo il classico rilievo dello spessore delle strutture, piantine, impianti e vi dicendo, ma anche andare ad individuare quelli che sono i nodi di ponte termico. Passiamo a vedere al discorso del calcolo dei punti termici. Vi ricordate siamo partiti all'inizio dicendo che potevamo fare sì un rilievo esterno e un rilievo interno degli superfici disperdenti e anche i punti termici li posso calcolare riferendoli a un rilievo esterno oppure a un rilievo interno. Qui vi ho mostrato, anzi vi sto mostrando, quello che è il risultato di calcolo di un ponte termico d'angolo con rilievo esterno degli superfici disperdenti. Se guardate nella immagine di sinistra vedete delle linee verdi che sono delle linee di sezione. Queste linee di sezione vanno ad identificare la tipologia di rilievo sostanzialmente. Qui si tratta di un rilievo esterno e vedete che vado a considerare come lunghezza delle due pareti la loro lunghezza totale. Quindi questa parete posta qui sopra andrò a rilevare la superficie disperdente da questo punto fino al suo termine e indiano anche per la parete posta verticale. Cosa succede? che rilevando le superfici disperdenti in questo modo vado a considerare per due volte la superficie dell'angolo. Tenete infatti conto che l'Upsi è cosa uguale? È uguale all'L2D, quindi la dispersione che viene determinata col calcolo degli elementi finiti, meno il prodotto U per S, quindi trasmittanza della parete per la sua superficie. Qui sostanzialmente facendo un rilievo esterno vado a determinare meno dispersione col calcolo degli elementi finiti, con l'L2D, rispetto al caso in cui faccio il rilievo tramite superficie esterna U per S e quindi di conseguenza il punto eterno proviene negativo. D'altronde con il rilievo con le superfici esterne vado a considerare per due volte l'energia che mi riesce da quest'angolo e quindi sto andando a sovrassimare quello che è il calcolo delle dispersioni. Pertanto il punto termico è negativo ed è corretto che sia negativo. Ci tengo a spiegarvi questo punto perché tantissime volte in passato ma anche al giorno d'oggi riceviamo domande in assistenza sul perché un ponte termico ha un Upsi negativo, se è corretto che l'Upsi sia negativo e se è il caso diventerà. Il ponte termico, effettuando un calcolo con rilievo esterno delle superfici disperdenti, è corretto che venga negativo perlomeno nel caso dei ponte termici dovuti a un discorso geometrico. Se facciamo invece un rilievo interno, con il rilievo interno ci fermiamo a rilevare le superfici disperdenti solamente sulla faccia interna delle strutture e quindi non andiamo a considerare la dispersione data dall'angolo. Quindi col calcolo U per S andiamo a determinare una minora perdita di energia perché calcoliamo un pezzo di superficie in meno, mentre col calcolo degli elementi finiti, con l'L2D, andiamo a calcolare delle dispersioni aggiuntive. Quindi determinando lo Psi referendo all'ogginazione interna determiniamo sostanzialmente un valore positivo, come uno Psi positivo. Questo ovviamente per il ponte termico d'angolo. Se abbiamo un ponte termico dovuto sia a caratteristiche geometriche che dovute alla discontinuità materica, ovviamente le cose vanno un attimino a compensare. La discontinuità materica tende sempre ad aumentare quello che è il flusso termico in uscita di calore, quindi tende a rendere positivo lo russi del ponte termico. Bisogna vedere chi vince fra i due fenomeni. Si vince il fenomeno geometrico che tende ad ottenere degli Psi negativi o quello dovuto alla discontinuità materica che generalmente determina degli Psi con valore positivo. Andiamo a fare la prova del 9, quindi andiamo a calcolare le trasmittanze medie della nostra parete, mediandole con il ponte termico. Quindi il rilievo interno, abbiamo la nostra trasmittanza struttura 0,511 per 108 metri quadri interno, più la dispersione del ponte termico rilevato alle dimensioni interne, 0,192 per 18, diviso la superficie disperdente interna ovviamente, trasmittanza media 0,527. Sesto discorso ma fatto con il rilievo esterno, abbiamo 0,511 per 114 metri quadri, ma uno Psi che è negativo e quindi facendo il calcolo dello medio otteniamo un valore più basso, 0,417. Quindi a seconda del rilievo che andiamo ad eseguire cambia il valore di trasmittanza media. Il rilievo interno tenderà a determinare delle trasmittanze medie un pochettino più alte, rilievo esterno trasmittanze medie un pochettino più basse. Ora sapete che il decreto requisiti minimi vi chiede di verificare la trasmittanza media, ma il decreto requisiti minimi non vi differenzia i valori limite a seconda della tipologia di rilievo. Parla generalmente di trasmittanza e dato che normativamente parlando posso fare sia un rilievo interno che un rilievo esterno, basta essere coerenti con i conti termici, che posso utilizzare entrambe le metodologie di calcolo per condurre la verifica di trasmittanza media. Inutile dirvi quali che mi conviene considerare con l'esterno, perché il discorso di conti termici con il senso negativo vi consente di ottenere dei valori che sono un attimino più bassi, non drasticamente più bassi. Però se avete difficoltà di verifica dello media per qualche cifra decimale, un rilievo esterno comporta un piccolo vantaggio. Ovviamente arrivando a definire due valori di trasmittanza termica media avrebbe da dire, ok però anche qui non trovo una quadra perché il calcolo delle dispersioni non è coerente, a seconda che faccio un rilievo interno o esterno le dispersioni cambiano. Attenzione, facciamo la prova del 9 partendo dai due valori di trasmittanza media, un rilievo interno e un rilievo esterno, e moltiplichiamo rispettivamente per i valori di superficie disperdente. Guardate dove arriviamo, arriviamo a 56,92 vat su kelvin per il rilievo interno e a 56,89 per il rilievo esterno, quindi c'è una differenza solo di approssimazione e comunque aggiungiamo alla cattiver proprio che è 56,89. Quindi il rilievo interno e il rilievo esterno per funzionare devono tener conto dei ponti termici. I ponti termici devono essere calcolati in maniera coerente con il rilievo dello superficie e se sono calcolati correttamente comportano il medesimo calcolo delle dispersioni, che sarà corretto ed equivalente a seconda che io faccio un rilievo interno. Quindi abbiamo capito prima cosa importante, i ponti termici servono per effettuare correttamente il calcolo delle dispersioni. Il calcolo delle dispersioni, come ho annunciato prima, a cosa serve? Beh, serve per effettuare correttamente il calcolo dell'AP e delle verifiche di legge e più in generale anche per determinare le PGLNREN. Le PGLNREN è l'indicatore di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio che viene utilizzato per determinare la classe energetica del mio edificio oggetto di calcolo ed è quindi quel parametro che serve per valutare il doppio salto classe richiesto super bonus 110%. Quindi vedete come le cose sono collegate. Ponti termici, calcolo delle dispersioni, e PGLNREN, dopo il salto classe, super bonus 110%. Non solo però, una pratica super bonus 110% è prima di tutto una normale pratica di verifica dei requisiti minimi energetici di AM2606. Questa è una cosa che per me è più che scontata, perché le detrazioni super bonus 110% sono un di più, del tipo voglio ristrutturare un edificio, non posso ristrutturarlo come mi pare piace, devo rispettare dei requisiti minimi energetici che mi dicono, sostanzialmente mi impongono dei valori limite che il mio sistema edificio impianto nella fase del progetto dovrà saper rispettare. L'incentivazione fiscale, ecobonus o super bonus, mi consente di incentivare queste opere di ristrutturazione con varie percentuali incettive, un 65% per l'ecobonus, un 75% oppure il 110% per il super bonus, e quindi mi consentono di realizzare in maniera decisamente più agevole queste tipologie di interventi, ma logicamente mi chiede un qualcosa in più rispetto al normale limite di legge, nel senso che il limite di legge è scontato, se io voglio ristrutturare un edificio è scontato che io debba rispettare i requisiti di legge. Se voglio prendere anche le detrazioni, devo fare un qualcosa in più e quindi verificare quelli che sono i parametri richiesti dall'accesso alle detrazioni, ad esempio per il super bonus il 2% classico. Ve lo dico chiaro e tondo questo discorso perché sono ancora di tanti, ci chiamano, ci mandano mail, dove sembra che le uniche verifiche per accedere alle detrazioni fiscali siano quelle del super bonus 110 e ci si dimentichi totalmente dei requisiti minimi agenti. Assolutamente no, in pratica il super bonus 110% è prima di tutto una normalissima legge 10, una normalissima verifica dei requisiti minimi agenti. Via 26.06.15 descrive quali sono le tipologie di intervento ai quali corrispondono una serie di verifiche di legge e tipologia di intervento sicuramente più gettonata al momento è quella della ristrutturazione importante di secondo livello, quando si interviene su più del 25% della superficie disperdente, quindi intervento trainer. Questa tipologia di intervento richiede fra le altre verifiche su cui non ci soffermiamo la verifica della trasmittanza termica media che è diventata una delle verifiche più complicate da effettuare perché agiamo su degli edifici esistenti, vogliamo fare il cappotto, ma su quei cappotti dobbiamo verificare la trasmittanza media considerandoci. Pertanto è un po' difficile effettuare questo discorso. Come va effettuata la verifica della trasmittanza termica media? Beh, fino a poco tempo fa la si andava ad effettuare su ciascuna singola struttura disperdente, quindi muratura esterna, monotore verso uno scale. Se avevo stratigrafie differenti di muratura esterne facevo la verifica più media delle singole unità esterne. Però di fatto c'era un precedente particolare, quello della trasmittanza del sottofinestra. Il sottofinestra è una porzione di parete esterna, di superficie inferiore rispetto a parete esterna, che ha una sua spessore ridotto. Ora non siamo mai messi a calcolare la trasmittanza media del sottofinestra. Andavamo a mediare la trasmittanza del sottofinestra nella grossa media della trasmittanza media dell'interno esterna. Quindi andavamo a fare una media della trasmittanza di muratura. Questo di fatto è un precedente che consente di estendere alla logica di verifica della trasmittanza media l'interpretazione della fac 3.16 del dicembre 2018, la quale dice sostanzialmente che è possibile condurre la verifica di trasmittanza media su tutte le strutture opache verticali, su tutte le strutture opache orizzontali inclinate e su tutte le strutture orizzontali. Quindi si passa da un concetto di verifica per singola struttura a un concetto di verifica che accomuna tutte le pareti disperdenti, tutti i pavimenti disperdenti. È possibile tener conto di questa cosa nel software C700, nelle verifiche di legge, andando appunto a selezionare la tipologia di verifica che riteniamo più corretta a eseguire per l'edificio posto in verifica. Non ci sono delle indicazioni normative e legislative precise, solamente questa fac 3.16. Noi tecnici abbiamo la libertà nel software di scegliere se fare la verifica dell'umedia per singola struttura o per conflitto. Qui riporto un estratto della stampa del dettaglio di calcolo della trasmittanza media, giusto per vedere come è fatto il calcolo della trasmittanza media. È semplicemente una media pesata in funzione della superficie della parete e delle lunghezze dei ponti termici di parete e dei ponti termici che incidono sulla parete. Vedete che noi abbiamo una parete esterna con trasmittanza di 0,2, dopodiché abbiamo un muro sotto finestra che viene immediato e poi tutti questi ponti termici. Ogni ponte termico ha il suo psi, ogni ponte termico ha la sua lunghezza e in questa colonna dello psi per L vediamo qual è il peso dei singoli punti termici. Vediamo che alcuni hanno peso sostanzialmente inesistente, qui si tratta già come vedete di una parete isolata, una trasmittanza di 0,2. Andiamo a vedere il ponte termico, parete, solare e interpiano, il psi è 0,006, il prodotto psi per L è 0,536, peso sostanzialmente nullo. Alcuni punti termici sono negativi, quel discorso geometrico che vi dicevo prima, quindi vanno a ridurre, il numeratore tende un rapporto e se ti riduco in un rapporto numeratore tende un numero più basso. Poi ce ne sono altre che sono un attimino più presenti a livello numerico, sono sostanzialmente il ponte termico, parete e telaio e parete balcone che sono i due principali punti termici che creano problemi nelle strutturazioni. A regola generale, se un edificio ha una parete che ha tante finestre e tanti metri lineari di balcone è praticamente impossibile verificarne la trasmittanza media. Quindi magari è il caso di lasciare stare, di capottare quella parete particolarmente complessa e andare a concentrarsi sulla coibentazione a capotto di pareti complesse. D'altronde l'intervento trainante per accesso superbonus di interventi in volo cro non richiede una percentuale di coibentazione delle superfici sperdenti del cento per cento o del settanto del 75 per cento che del 25 per cento, che non è tanto. Quindi abbiamo tranquillamente spazio di effettuare un intervento trainante sull'involucro tralaccando qualche facciata dell'edificio nello specifico le facciate più complesse, quelle caratterizzate dal maggior numero di balcone di finestre. Quindi secondo motivo principale per cui calcolare i ponti termici. Abbiamo visto il primo per fare il calcolo corretto delle dispersioni, il secondo perché eseguendo degli interventi sull'involucro molto probabilmente ci troveremmo a fare un calcolo della trasmittanza media in cui dobbiamo considerare i ponti termici. Terzo motivo e forse il più importante è il discorso del rischio MUF. La MUF che vediamo negli angoli, vi dicendo, è dovuta in modo, diciamo così, abbastanza importante dal ponte termico. Quindi da una temperatura superficiale in luogo del ponte termico bassa. Quello succede che se ci sono dei punti freddi sull'involucro lì l'unità relativa sale e si verifica un valore maggiore dell'80 per cento può comportare il rischio di condizione MUF. Non sono pochi casi di edifici ristrutturati, capottati, finestre sostituite ma non curati nella correzione dei punti termici che dopo qualche mese, qualche anno di utilizzo, mostrano la presenza di MUF negli angoli o vicino al telario del serramento. A livello legislativo abbiamo qualche obbligo? L'unico richiamo che conosco è quello del dm 26.06.15 allegato a uno dei punti, il quale dice che è necessario effettuare la verifica di rischio di formazione MUF a secondo la UNINISO 13788 per le pareti, quindi per le strutture, ma occorre effettuare anche questa verifica con particolare attenzione ai punti termici negli edifici di nuova costruzione. Quindi è chiaro che in una nuova costruzione, conoscendo ovviamente più dettagli che l'involucro, in fase di progetto, possiamo progettare meglio la correzione dei punti termici finalizzata ad evitare il rischio MUF. Su una ristrutturazione noi non conosciamo bene come sono fatti i punti termici, possiamo fare delle ipotesi che si potranno avvicinare più o meno. Il decreto non cita la ristrutturazione, ma quindi cosa possiamo fare? Possiamo non calcolarli? Direi di no perché dobbiamo portare particolare attenzione alle nuove costruzioni. Per le ristrutturazioni non è che dice che possiamo escluderli, avrebbe da pensare che posso calcolarli con meno attenzione. Boh, non so. Per attenzione magari perché conosco meno dettagli, ma di fatto non c'è un'esclusione del calcolo dei punti termici o più che altro della verifica delle rischi MUF sugli edifici esistenti imposti a ristrutturazione. Ma a prescindere dal discorso legislativo, il discorso principale deve essere un discorso di natura tecnica. Quando io vado a migliorare l'involucro di un edificio, lo scopo principale non deve essere quello di passare le verifiche di legge e di ridurre le frazioni energetici. Lo scopo principale è quello di migliorare il comfort interno dell'edificio. Noi dobbiamo scettare un edificio che faccia sentire meglio il cliente che ha l'edificio. Se noi siamo dentro una stanza climatizzata a 20 gradi, ma circondata da pareti in pietra o circondata da pareti isolate, cambia la temperatura superficiale delle pareti. Se io sono circondato da pareti a 15 gradi, sentirò più freddo e più disagio rispetto ad essere in un ambiente sempre climatizzato a 20 gradi, ma circondato da pareti che hanno una temperatura superficiale di 19 gradi. Quindi l'isolamento delle strutture comporta con il tutto un miglioramento del comfort e di conseguenza riduzione delle spese e passaggio a delle verifiche di legge. La presenza di muffa è un disconforo, è un non benessere termigrometrico dell'edificio, quindi è un qualcosa che già in fase di progetto dobbiamo evitare perché è la prima richiesta del nostro. Caso pratico, calcolo sempre gli elementi finiti, è un ponte termico d'angolo, conserva la nostra struttura col cappotto con trasmittanza di 0,511, ma in più nell'angolo ci abbiamo messo un pilastro. Facciamo il calcolo dagli elementi finiti, lo psi sarà positivo o negativo, questo specifico caso è ancora negativo, vedete, psi uguale a meno 0,19, perché è stato più forte l'effetto geometrico e l'effetto dovuto al cambio di conduttività. Qui c'è una continuità dell'isolante termico, ok? Non c'è un'interruzione, questo riduce e correggendo coppettino in ponte termico. Ma comunque sia c'è un cambio di conduttività dall'atterizzo al pilastro. Però anche se ho uno psi negativo non vuol dire che la verifica del rischio muffa sia anch'essa positiva, quindi che non ho rischio muffa. Nello specifico, qui vedete nell'immagine, questa linea viola, questa linea viola è l'isoterma di rischio formazione muffa. Vediamo che dove c'è isolante continuo, quindi dove c'è un buon grado di isolamento, l'isoterma viaggia all'interno della struttura. Poi quando arriva nell'angolo, per questioni legate alla geometria e al cambio di conduttività, questo isoterma va ad affacciarsi lungo la superficie interna posta nell'angolo. E questo cosa vi segna? Vi segna il rischio di formazione muffa proprio nell'angolo. Quindi anche se ho uno psi negativo potrei lo stesso avere un rischio muffa. Però cosa posso fare? D'altronde io ho coibentato con continuità al mio angolo. Sì, ma l'ho coibentato con soli 5 cm di cappotto. Questo è un caso fatto in zona E. 5 cm di cappotto, siamo tutti, che sono troppo pochi. Pertanto, fine di portare questo isoterma di più verso l'interno della struttura e non farla affacciare lungo le superfici interne, dovrò aumentare lo spessore dell'isolante. Passiamo allo studio di un caso pratico. Prima ve lo descrivo a livello di involucro, ok? Abbiamo un piano terra non climatizzato. Qui ho fatto un calcolo analitico dei locali non climatizzati, ok? Ho fatto un po' di più per essere un po' di più preciso. Quindi vedete abbiamo sostanzialmente dei portoni garage. Qui ho creato un locale non climatizzato unico per 4 garage, sarebbero sostanzialmente, non sono stato a suddividerli perché di fatto non ha importanza suddividere i locali non climatizzati a 200. Ho solo suddiviso il vano scale, perché è un vano scale non riscalato, che poi sale nel nostro edificio. Quindi ho utilizzato l'unione dei locali per creare un tutto. Poi abbiamo un primo piano climatizzato, composto da due appartamenti, un appartamento a destra e un appartamento a sinistra con il vano scale in mezzo al punto climatizzato. E abbiamo già su questo primo piano dei balconi, vedete abbiamo un balcone sul retro e dei balconi terrazzo sulla parte anteriore. Dopodiché saliamo al piano secondo e abbiamo anche qui due appartamenti, gli stessi uguali di prima e anche qui ci sono dei balconi. Infine l'ultimo piano è un sottotetto non climatizzato, anche qui ho disegnato il sottotetto per fare il calcolo analitico e per disegnare anche il tetto, perché la gronda mi dà poi l'ombreggiamento. Questo è l'edificio che utilizziamo come base per il nostro esempio, che non è un condominio grosso, anche se è un piccolo condominio, quindi il senso del superbonus va trattato esattamente come un condominio. Però non è neanche molto diverso da quello che potrebbe essere una viletta, è una via di mezzo, che va bene per spiegare abbastanza bene il discorso di rilievo e calcolo pontitermici. Questi sono i prospetti, vedete il prospetto anteriore, posteriore, destro e sinistro e questa è la visualizzazione come questo che vedete in basso in grigio, è il piano non climatizzato, vanno scale non climatizzato, le finestre e poi i nostri appartamenti con il balcone termico. Una classica palazzina residenziale, nulla di che. Quale intervento facciamo? Tra tutti gli interventi che possiamo fare, noi qua vogliamo parlare esplicitamente di pontitermici, e sostanzialmente abbiamo una coibentazione delle strutture. Ovviamente mi sono accorto adesso che qualche errore nelle presentazioni ci scappa sempre, si possono controllare mille volte qualcosa che scappa sempre, infatti vedete che la parete esterna, che era una parete a cassa vuota, aveva una trasmittanza iniziale di 0,913 e poi cappottandola con 12 cm di polisterena graffita di 0,031 ovviamente la sua trasmittanza non è 1,942, qua si vede che ho copiato questi due valori di trasmittanza, scende a cierca 0,2, quindi cancellate questa trasmittanza 1,942, sarà un 0,200 qualcosa. La coibentazione riguarda anche il sottofinestra, vedete il sottofinestra è composto dal solo strato di mattone esterno, a trasmittanza nel pre-intervento di 1,942 e dopodiché arriviamo a un valore in trasmittanza di 0,126. Coibentazione, copertura esterna sotto tetto, sapete che c'è un discorso di possibilità di portare in detrazione anche la coibentazione della copertura del sottotetto non climatizzato, trainandolo di fatto all'intervento trainante sull'involucro. Posso poi portare in detrazione anche la coibentazione della copertura del sottotetto non climatizzato. Prima di procedere con il discorso di calcolo dei punti termici, chiedo a Marcella di lanciare un piccolo sondaggio per vedere se siete ancora tutti attenti e vediamo un po' come rispondete. Marcella, prima di pure la parola per lanciare la nostra domanda su un dato. Eccoci qua, allora, il sondaggio ci chiede, nella simulazione pre-intervento di un edificio è necessario inserire ponti termici? Potete scegliere la vostra risposta tra le seguenti, solo se gli interventi prevedono l'isolamento dell'involucro, sempre a prescindere dalla tipologia di intervento, solo se tra gli interventi si sostituiscono i serramenti, oppure solamente se l'edificio presenta problemi di muffa. Potete scegliere la vostra risposta direttamente sullo schermo, quindi se ci seguite da un dispositivo mobile cliccando sullo schermo del cellulare oppure sullo schermo del vostro pc. Qualora non siate impossibilitati a farlo, alcuni dispositivi potrebbero avere qualche limite, potete scrivere la vostra risposta in chat e ovviamente ne terremo conto per i calcoli statistici. Lasciamo magari qualche secondo ancora, anche se buona parte dei partecipanti ha già formulato la sua scelta. Nel frattempo vi ricordo che nella sezione documenti ci sono due documenti che il prima ha voluto condividere con voi, un catalogo e nuovamente il coupon per gli sconti per l'acquisto dei loro software. Benissimo, magari ancora qualche secondo, le ultime votazioni sono ancora in corso. Bene, allora chiudiamo quindi il sondaggio, più buona parte della nostra audience ha scelto la propria risposta, condividiamo i risultati. Allora, per il 14% solo se gli interventi prevedono l'isolamento dell'involucro, la grande maggioranza quindi per l'85% invece risponde sempre, a prescindere dalla tipologia di intervento, e l'1% solamente se l'edificio presenta problemi di muffa. Sì, bene, allora le risposte che ho dato mi confortano, nel senso che l'85% ha dato ovviamente la risposta giusta. Abbiamo visto che i ponti termici servono per effettuare correttamente il calcolo delle dispersioni, quindi quando sono adaccosi ai ponti termici sempre, perché dobbiamo sempre fare un calcolo delle dispersioni. Il 14% che ha definito, ha scelto di calcolarli solo quando si prevede all'isolamento dell'involucro, allora in quel caso lì sicuramente i ponti termici acquisiscono ancora maggiore importanza, perché oltre ad essere utilizzati per effettuare il calcolo delle dispersioni, li devo utilizzare anche in questo intervento per fare il calcolo dell'involucro. Quindi è ancora più importante considerarli, ma non è il caso di esclusività, quindi abbiamo introdotto, abbiamo definito già prima all'inizio, che i ponti termici li devo considerare per fare correttamente il calcolo delle dispersioni. Io il calcolo delle dispersioni li devo fare a prescindere che faccia degli interventi sull'involucro o anche solo sull'involucro. Bene, procediamo e andiamo a vedere quali sono i ponti termici che ho considerato per questo edificio. Ho considerato 9 nodi di ponti termico. Tanti mi chiedono quanti nodi devo considerare per un edificio? C'è chi dice che per un edificio vanno considerati 40 ponti termici. C'è anche idea che faccio fatica ad individuarne 40, se non che si facciano degli interventi differenziati sulle singole strutture. Diciamo che in generale sono quei 7, 8, 9 ponti termici, 9 nodi di ponti termici, che solitamente si trovano sempre in tutti gli edifici. Io solitamente parto dall'alto verso il basso, allora il primo nodo è lo Z1, parete, solaio verso un climatizzato, perché in questo caso un solaio verso un climatizzato, poteva sennò essere un parete. Poi saliamo di un piano, Z2, parete solo interpiano. Poi Z3, parete copertura. Rescendiamo un attimo, non ho dappertutto l'interpiano, o anche il balcone, laddove ho il balcone, il ponte termico di solaio interpiano cambia e diventa un piano. Poi ho le finestre, parete telaio. Poi gli angoli, angolo scorgente e angolo rientrante. Poi ho dei pilastri in facciata. E infine parete e balcone, ma su un nodo che prevede la parete e il palliduzio. Quindi questi punti termici li devo annotare in fase di, diciamo così, sopralluogo in fase di input grafico e li devo inserire anche appunto nel mio rilievo grafico. Li devo creare nel mio elenco dei componenti, i punti termici li devo inserire anche nel mio input grafico. Questo lo devo già fare nel preintervento, perché già nel preintervento devo fare correttamente il calcolo delle prestazioni energetiche. I punti termici li utilizzo per fare correttamente il calcolo delle prestazioni energetiche, arrivare a una PGLNRE corretto, perché il doppio salto classe lo devo calcolare rispetto al preintervento. Quindi, così come devo essere preciso nel calcolare la classe posta, lo devo essere anche nel calcolare la classe di preintervento. Inoltre, inserendo, anzi scusate, creando tutti questi punti termici nel preintervento ed inserendoli nel input grafico, avrò già un modello di sistema edificio impianto già pronto per poter supportare le simulazioni del posto intervento. Quindi io creo un modello preintervento con tutti i nodi di punti termici, andandoli ad assegnare nel input grafico, dopodiché il mio posto intervento diventa una copia del posto intervento, in cui andrò semplicemente ad aggiungere l'isolante alle strutture e andrò a ricalcolare l'ossido dei punti termici, perché passando a strutture isolate ovviamente cambia la trasmittanza. Rimane da scegliere in che modo calcolare questi punti termici. Devo utilizzare l'abaco o il calcolo agli uniti? Allora ho provato a fare, sia nel preintervento che nel posto intervento, il calcolo di tutti questi punti termici, o con l'abaco o col calcolo agli uniti. Prendiamo ad esempio il primo ponte termico, lo Z1, parete solaio verso l'automatizzato. Allora, quando faccio un calcolo con l'abaco, che vi ho riportato lo C709, devo fare delle approssimazioni. Nello specifico vedete che il modello di ponte termico è rappresentato da una parete costituita da un unico strato omogeneo, caratterizzato da uno spessore e da un lambda, mentre il pavimento in questo caso è rappresentato da questo S sol del poidente sopra, dove l'S sol è puro cemento, noi abbiamo una soletta in là puro cemento, una parete con intercapedine d'aria, quindi una parete che non è composta da un unico strato omogeneo, è composta da tre strati differenti. Quindi per ricondurmi a questa situazione, io devo calcolare una struttura, una parete equivalente alla mia composta da tre strati, equivalente composta da un'ottimo strato. Quindi come spessore di questa parete considererò la somma degli spessori dei vari strati che la compongono. In tonne ci possiamo anche tralasciare, possiamo considerare che solo i due laterizi e l'intercapedine. E come lambda calcolerò un lambda medio-pesato in funzione dello spessore dei singoli strati. Quindi lambda dell'atterizio 1 per il suo spessore, lambda dell'intercapedine d'aria per il suo spessore, lambda dell'atterizio esterno per il suo spessore, fratto lo spessore. In questa maniera ho tra virgolette calcolato una muratura equivalente composta da un suo strato. Qui nel modello ho sostanzialmente una soletta in cemento più dell'isolante. La mia soletta non è in cemento, non è in cemento, è l'atterizio, quindi è una trasmittanza inferiore rispetto a quello di modello. Pertanto sono andato a scegliere la cosa che più si avvicinava, ovvero quello in cui il modello presenta una soletta in cemento più dell'isolante. Questo perché come trasmittanza massima della soletta è in 0,7. Poi la mia trasmittanza in cemento sarà un po' più alta nello specifico. Però con questo modello posso spingermi al massimo fino a 1,07, non di più. Col calcolo degli elementi finiti, beh, non ho queste tra virgolette limitazioni, non devo fare queste approssimazioni perché riesco ad andare a simulare direttamente quella che è la stratigrafia delle mie varie strutture e quindi anche il discorso di differenziare la mia stratigrafia. Vedete qua, io posso rappresentare la mia muratura con intercapedidare, posso rappresentare la mia soletta in cemento. Quindi qua sicuramente la possibilità di inserire in maniera puntuale, in maniera molto aderente alla realtà, tutte le condizioni al contorno e le caratteristiche delle mie strutture, fa sì che il calcolo sia sicuramente più preciso. Ma di quanto più preciso? Vedete qua, l'effetto preponderante è l'effetto geometrico, tant'è che il tipo di terra c'è un po' negativo. Abbiamo un meno 0,157 per il caso degli elementi finiti e meno 0,189 per il caso studiato con il C7,109 facendo queste approssimazioni. Quindi c'è una differenza non altissima e vediamo quanto pesa questa differenza per lo scopo di calcolo che abbiamo nel pre-intervento, ovvero unicamente calcolare le dispersioni. Qui non dobbiamo fare un calcolo di trasmittanza media o un calcolo di rischio. Qui vi ho elencato quelle che sono le dispersioni dovute ai punti termici del pre-intervento calcolato con Abaco e del pre-intervento calcolato con il calcolo di rischio finiti. Vedete che ci sono alcuni ponti termici che hanno dei pesi differenti perché lì l'approssimazione è un po' troppo elevata, mentre ce ne sono altre che sono molto molto simili. Guardate quale rete solente al piano. 0,253 contro 0,223. Abbiamo 1,209 kilowattora contro 1,373. Quasi stessa cosa. Poi, sì, ci sono altre tipo parete copertura 0,064 contro 0,031 uno più che dell'altro però i metri in lineare non sono tantissimi quindi vanno poi fuori 200 kilowattora e via dicendo. Comunque sia, ovviamente questi pesi dei punti termici chi più chi meno si compensano e arriviamo a questa situazione. Qua che ND fa bisogno di energia utile dell'involucro 128,88 contro 128,0 praticamente molto molto simile. Peso delle dispersioni in capo dei punti termici c'è 5% con l'avoco 4,5% con il calcolo degli elementi e PGLNREN sostanzialmente è lo stesso 191,62 contro 190,47 c'è la differenza di 1, qualcosa a chilometri quadro e la stessa classe energetica. Quindi in un pre-intervento fare simulazione degli elementi finti col mondo o con l'avoco è più o meno la stessa cosa. Certo, per chi vuole essere preciso alla seconda cifra decimale per chi vuole attore o metro quadro anno conviene sempre fare le simulazioni degli elementi finiti ma allora se adottiamo questo grado di precisione lo dobbiamo fare con qualsiasi dato anche con i dati del genere di colore il che diventa un pochettino più difficile dobbiamo essere ben bravi ad approssimare da dove si può in maniera sensata. Passiamo al post al post anche qua devo fare delle considerazioni quindi prendiamo ad esempio il ponte termico parete telaio la mia parete è sempre quella composta dall'intercapedine non ventilata più l'isolante che ha portato esterno vado a prendere il modello dell'avoco che ci assomiglia che è un ponte esterno ma anche qua vedete che il modello mi chiede S-mure e lambda-mure e anche qua devo ricondurmi a una parete equivalente omogenea il solito discorso di sommare gli strati e fare una media pesata in funzione dello spessore e poi qua la correzione vedete che qua c'è una correzione di risvolto isolante esterno è fissa 4 cm e lambda-0040 non posso cambiare col molde invece quindi con la simulazione degli elementi finiti posso andare a caratterizzare meglio il mio nodo quindi posso tener conto dell'intercapedine posso tener conto che l'intercapedine arriva fino a un certo punto poi ci sono dei mattoncini di testa e poi posso considerare una diversa correzione del punto interno quindi magari non ho lo spazio per fare un risvolto a 4 cm a 0,040 qua ad esempio ho utilizzato un centimetro e mezzo di aerogel a 0,015 trasmittanza in eica di calcolo qua vediamo 0,048 con l'abaco e 0,104 con il calcolo finito quindi qui l'abaco mi avrebbe determinato quella che può essere una soluzione migliorativa della realtà quindi piuttosto che non considerare questo ponte termico non considerare la correzione sicuramente è meglio farlo con l'abaco ma se la mia soluzione reale si discosta un pochettino dalla realtà sicuramente la simulazione di calcolo di elementi finiti mi permette di simularla nella maniera più corretta nella maniera migliore e vedere anche quale correzione può essere più sensata per la mia casistia anche qui vi ho fatto il confronto tra abaco e calcolo degli elementi finiti del post vi ho riquadrato in verde quei punti termici che possono tranquillamente anche nel post intervento essere calcolati con l'abaco perché non cambia di fatto niente guardate parete solaia interpianto 0,08 con l'abaco 0,06 col calcolo non cambia di niente da dove c'è una continuità di isolante il discorso di passare alla parete omogenea non comporta delle grosse differenze sullo psilicato stesso discorso per gli angoli rientrante e sporgente da dove invece c'è una certa differenza ce l'abbiamo invece nei noti di un attimo più complesso ad esempio il parete balcone e il parete balcone su ambiente non climatizzato o il parete telaio su quelli c'è una certa differenza e il calcolo degli elementi finiti può far determinare diciamo questi punti termici in maniera piccolata quindi vedete che nel post intervento laddove abbiamo un posizionamento dell'isolante l'utilizzo dei punti termici da simulazione degli elementi finiti vi consente di determinare fa bisogno energetico un po' più basso perché abbiamo aumentato la precisione di calcolo vedete che da un QND di 64 a 77 si passa a un 61 a 86 peso delle dispersioni di punti termici 5,7% contro un 2,9% PGLNRN di 105 93 contro 102,06 quindi meno male diciamo la grandezza è confermata ok ma passando a quello elementi finiti siamo questo per quanto riguarda dispersioni di PGLNRN classe vediamo un discorso di verifica di trasmittanza media verifica di trasmittanza media qui vi ho riportato sostanzialmente la stessa immagine che abbiamo visto prima abbiamo 0,268 con l'abaco e 0,249 in entrambi i casi riusciamo a rispettare il limite che è di 0,28 per la zona climatica ma vediamo che col calcolo di limiti finiti riusciamo a determinare un valore più basso perché siamo stati più precisi con il calcolo dei punti termici se fossimo stati più prossimi al limite di 0,28 magari la scelta di calcolare alcuni punti termici con il calcolo degli elementi finiti poteva essere la soluzione ideale per passare una verifica di trasmittanza media perché abbiamo aumentato la precisione di calcolo inoltre con il calcolo degli elementi finiti possiamo fare un qualcosa in più relativamente rischio qua vi ho riportato il ponte termico di parete pavimento su ambiente non climatizzato facendo terminare l'isolante da dove c'è la trada ponte termico con psi negativo abbiamo visto che anche se il ponte termico con psi negativo può esserci un rischio infatti vediamo che l'isoterma si affaccia per un pezzettino piccolo sul muro e per un pezzettino sul pavimento quindi c'è questo rischio con il calcolo degli elementi finiti posso studiare una soluzione correttiva quindi prolungare ad esempio il cappotto di qualche centimetro lungo la parete del locale notizato non farà magari parte delle detrazioni super bonus perché parte di isolamento di un locale notizato ma è necessario per far verificare positivamente la verifica del rischio muro vediamo infatti che con questa soluzione l'isoterma entra dentro nelle strutture quindi non abbiamo più di rischio di informazione in un po' idem anche sul discorso del ponte termico del serramento guardate qua ho fatto il capote esterno senza fare risolto dell'isolante ok magari non ho un ponte termico particolarmente negativo però guardate questo grandissimo problema l'isoterma del rischio muro si affaccia qua sulla superficie interna della muratura esterna in prossimità del telare tanti casi in cui viene nera la parete in prossimità del telare e sono proprio casi dovuti alla mancanza di risvolto dell'isolante perché appunto vedete l'influsso termico e qua c'è un infittimento di flusso termico che gira attorno al telare quindi questa parte qua è particolarmente fredda facendo il calcolo degli elementi finiti riesco ad andare a ipotizzare nella mia geometria l'inserto l'inserimento di una correzione con aerogel e vedete come questo elemento coibentante ci consente di andare a spostare l'isotermo al rischio all'interno senza farla affacciarsi e questo vi può appunto determinare una verifica di rischio molto produttivo soprattutto se poi si cambia anche il servito procedendo quindi per chiudere si può passare poi al discorso delle verifiche dei requisiti minimi energetici con le verifiche di legge 10 in questo caso la ristrutturazione è importante di secondo livello vedete il dettaglio della trasmittanza media e infine la verifica di accesso alle detrazioni quindi il nostro software il C700 è il modulo aggiuntivo il 778 che consente di verificare il doppio salto classe e le verifiche per l'accesso alle detrazioni quindi la percentuale di intervento sulle superfici disperenti all'ordine esistente il confronto della trasmittanza delle strutture isolate rispetto al valore limite questo sia delle strutture post che per le strutture pre-intervento le quali devono avere un valore più alto del limite e poi viene anche calcolata il risparmio di energia primaria rinuale di progetto secondo la procedura di calcolo semplificato un calcolo non un'ITS di 1300 il richiesto da NER per scopi parrebbe a livello statistico quindi un progetto di controllo e il software applica questa procedura di calcolo semplificata fornendovi questo risparmio da compilare sul portale con questo chiuso la mia presentazione chiedo a Marcella se magari abbiamo il tempo di leggere magari qualche domanda che magari ci hanno inviato allora abbiamo davvero un minuto un paio di minuti quindi magari se vuole ci sono delle domande le puoi vedere anche tu vediamo magari abbiamo appunto il tempo di rispondere almeno a una domanda massimo due le vedi contrassegnate in verde prima domanda ma considerare le dimensioni interna o esterna porta trasmittanze medie compresi i punti termici differenti è possibile certo che sì abbiamo visto che dal punto di vista tecnico un rilievo interno e esterno comporta delle trasmittanze interne e medie che sono un pochettino differenti perché appunto dipende dal rilievo a livello di decreto legislativo si parla generalmente di trasmittanze medie non vengono fatte delle distinzioni fra rilievo interno e esterno non esistono dei valori limite per trasmittanze medie per rilievo interno o esterno quindi dato che entrambi i calcoli sono ammessi ovviamente un calcolo con rilievo esterno vi consente di passare in maniera più agevole le trasmittanze medie quando uscirà eventualmente un nuovo decreto legge che imporrà dei valori diversificati di trasmittanza media per rilievo interno e esterno avremo due valori più variati questo sempre se verrà effettuato vediamo un po' magari un'ultima domanda se si considera il ponte termico nel suo valore esterno nell'input grafico al momento del tracciamento delle murature si deve necessariamente considerare penso il filo esterno allora diciamo questo che in input grafico il disegno del filo interno esterno in mezzaria non ha nulla a che fare con il rilievo l'input grafico di C700 lavora sempre con il rilievo esterno delle superfici e i punti termici che vengono calcolati da Abaco o da Monsimulator sono sempre riferiti a dimensioni esterno questo per evitare errori per evitare di fare un rilievo esterno e considerare i porti termici il discorso della linea di ubicazione del linko grafico serve semplicemente per capire qual è la linea di riferimento del disegno nello specifico se fate un cappotto esterno dovete disegnare con la linea di riferimento interna in modo tale che nel posto intervento quando aumentate lo spessore della parete questa cresca verso l'esterno e non verso l'esterno se me la disegnate con la fruttura esterna la parete crescerebbe in spessore verso l'interno rubandovi disegnate con la finitura interna se dovete fare dei cappotti esterni e questo non comporta diciamo così una differenziazione del rilievo che è sempre fatto esternamente direi a posto basta così Marcella eccoci qua ok ok allora ovviamente sono arrivate più domande di quelle che hai potuto leggere quindi noi promettiamo come sempre di inviare all'azienda tutti quei siti arrivati e ovviamente sono di interesse per l'azienda anche per capire il grado di interesse quali sono gli argomenti di maggiore interesse dei partecipanti e perché no magari c'è anche la possibilità di rispondere direttamente ai partecipanti io ringrazio il dottor Silvera per la sua spiegazione per la sua relazione sempre molto precisa e dettagliata abbiamo avuto davvero un seguito con numeri molto alti sia in questo webinar che in tutti i webinar dell'evento del Digital Forum AIST con questo concludiamo la seconda la seconda giornata abbiamo un'altra un'altra ultima giornata domani che si aprirà con il convegno istituzionale e poi a seguire avremo invece altri webinar di altre 5 aziende quindi ringraziando ancora il il dottor Silvera grazie Stefano davvero grazie a tutti grazie a voi grazie a Marcella grazie a il clima vi do l'appuntamento domani partiamo in un orario non solito perché anticipiamo di 20 minuti di 20 minuti il convegno del mattino partiamo alle 9.10 con il convegno istituzionale vi ricordo che prevede il rilascio di due crediti formativi e il titolo del convegno e della normativa alla pratica il supporto del BIM alla progettazione integrata a seguire di corsa alle 11.45 partiremo con CAD LINE software alle 13 seguirà Team System alle 14.15 torneranno i tecnici di Stadata alle 15.30 invece passeremo softing e alle 16.45 chiuderemo i webinar del pomeriggio con CDM e Dolben vi aspettiamo tutti numerosi domani potete ancora iscrivervi ai webinar alla pagina ufficiale dell'evento e io vi auguro una buona serata e ringrazio ancora il dottor Silvera ed il clima grazie e buona serata e buona serata con l'evento web